Finalmente, il caso di dire finalmente riapre la scuola, riapre la scuola in presenza, voglio rivolgere auguri, auguri affettuosi, un abbraccio a tutti i studenti padermitani, ai docenti, al personale amministrativo, al personale scolastico, a tutti coloro che rendono possibile far vivere questa esperienza di formazione e di cittadinanza attiva a migliaia e migliaia di giovani nella nostra città, confermando l'impegno dell'amministrazione comunale ad essere presente per aiutare non soltanto la messa in sicurezza rispetto al pericolo della pandemia ma anche rispetto alla vivibilità dell'ambiente scolastico. Si torna a scuola domani grazie al senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica che ha lavorato per rendere le nostre scuole luoghi ricchi di opportunità educative, in sinergia anche con gli uffici di questo assessorato. La pandemia ha certamente insegnato a tutte e tutti noi il grande valore del ritrovarci giornalmente in presenza e quanto questo sia decisivo per l'apprendimento. Dobbiamo insieme cooperare quotidianamente affinché le scuole restino luoghi sicuri grazie al rigoroso rispetto delle misure di prevenzione sanitaria. Buon anno scolastico a tutte e tutti.